Io ricordo che Cantimori mi prestava i libri, mi portava per preparare i seminari che lo fece con me ma anche con gli altri perché alle volte alcuni libri che dovevano servire per seminare con lui non c'erano qui né alla biblioteca della scuola né alla biblioteca universitaria, erano libri che Cantimori possedeva. Poi la sua biblioteca è passata qui alla scuola quindi per noi era... mandava a riprendersi però perché era giustamente molto geloso del suo patrimonio librario.